Al convegno Psicologia della Sicurezza e della Gestione del Rischio, l'importanza degli Human Factor che si è tenuto qui a Forte Secure Group, uno dei relatori d'eccezione è stato proprio Claudio Pantaleo, presidente Aspricom. Lei ci ha parlato di la gestione degli incidenti e delle crisi in Italia e all'estero. Corretto, corretto, ho parlato di questo argomento. Abbiamo rappresentato come le multinazionali di origine non italiana strutturano le brevi attività per rispondere a esigenze, partendo dall'analisi delle minacce, valutando e analizzando i rischi e, non ultimo, predisponendo piano di azione di risposta per contenere le situazioni e ripristino dell'operatività. Abbiamo parlato anche degli asset dell'impresa, le persone al primo posto. Non c'è azienda senza persone. Le persone sono fondamentali. Potremmo avere aziende senza sedi, senza beni, ma senza persone anche il nome non ha valore. Le persone sono tremendamente importanti, come pure la qualità della vita di queste persone all'interno dell'azienda, come deve essere fatta, come meglio che sia, appunto per il bene dell'impresa. L'impresa è strutturata per policy, procedure, misuratori, indicatori. La security è un processo, con tanti sottoprocessi, è un processo trasversale a tutte le attività operative dell'impresa. Accanto a questo deve essere misurata. Deve essere strutturata con, appunto, regole, policy e procedure, abbiamo già detto, ma analogamente con indicatori e misuratori che mi dicono anche lo stato di salute. Perché questo qui? Se ho delle aree di vulnerabilità evidenziate dai miei processi, dalle mie analisi, a quel punto devo averle sempre bene in mente. Non andrò a spendere dove sono già forte, per dire, perché magari va a piacere mettere una videocamera in più, che è più bella da vedersi, ma andrò a spendere dove effettivamente ho necessità di contenere rischi o minacce emergenti. Detto questo, è vitale per l'impresa, ed è vitale per chi fa security, avere una visione ampia, sapere l'azienda dove va, sapere che esistono dei momenti importanti in azienda al budget review, sapere che esiste un momento importante, lo strategic review, la strategia che faremo l'anno prossimo. E non ultimo esistono i progetti slegati da questi due momenti dove la security deve stare dentro. C'è un progetto, la security non può scoprirlo solo quando nasce o si presenta un problema. La security deve essere attaccata, embedded come dicono gli inglesi o gli americani, al progetto stesso. Quindi cosa accade? Accade che io devo strutturare la mia vita lavorativa in sintonia e con coordinamento con la convergenza delle competenze dei miei colleghi, con la convergenza delle mansioni, dell'attività nell'ambito aziendale a protezione del bene degli assi dell'impresa stessa. Noi spesso e volentieri non notiamo questa convergenza tra attori. Spesso ogni attore sta dalla sua parte, è geloso di ciò che fa, è come un rubinetto dell'acqua lucchettato, con un lucchetto che non dice, non racconta, perché non vuole condividere e non vuole dare, mentre per il bene comune dell'azienda deve dare questo rubinetto. Non condivide, non prepara un succession plan, un piano di successione. Io ho sempre lavorato istruendo chi lavorava con me a sostituirmi, ma non perché io volesse andare via o perché io volesse essere promosso, ma semplicemente per dare continuità e avere la garanzia della resilienza della mia impresa in qualsiasi situazione che potesse capitare, anche fuori dal normale orario di lavoro, oppure quando ero in ferie, perché essere sempre disturbato quando i miei sono capaci, preparati, addestrati a fare le cose, come me o simili a me. E quali quindi le conclusioni? Conclusioni abbastanza semplici e dinamiche, sta a dire dobbiamo lavorare in team, lavorare con la condivisione delle competenze, con la condivisione delle conoscenze, con la condivisione dei risultati. Se qualcosa non va bene o va benissimo, non può essere solo merito o demerito di un componente del team. Quindi lavoriamo assieme, lavoriamo per un bene comune che è la continuità dell'impresa, perché se l'impresa continua, analogamente anch'io avrò vita più lunga, lavorativa ovviamente. Condividere, anticipare le situazioni e onestamente dar luce e visibilità a chi merita, non soltanto perché io sia il direttore, debba apparire sempre io, anzi in molte circostanze ho fatto l'opposto, ho trasferito il merito, il pregio a chi era accanto a me e non su di me, che sarebbe servito a poco. Questo che dico serve anche a motivare le persone, anche perché parliamo di fattore umano, serve a dargli il giusto valore, a non togliergli nulla, anzi a dargli qualcosa in più di incentivante per far sempre meglio per un interesse comune. Se stanno bene loro, opereranno bene, sarò bene anch'io, opererò bene e l'azienda ne darà i giusti benefici, con i meriti anche indiretti per tutti quanti noi.